Ti sei mai trovato sopraffatto dai pensieri sul futuro, o legato ai ricordi del passato, incapace di immergerti completamente nel momento attuale? Sei in buona compagnia. Nella nostra incessante ricerca di ciò che verrà e l'abitudine di rivisitare ciò che è stato, spesso ci perdiamo la serenità e l'importanza dell'ora. Questo segmento iniziale introduce la mindfulness, una luce guida verso il presente, l'unico tempo che veramente ci appartiene. La mindfulness è la pratica di essere completamente presenti e vivere pienamente il momento. Si tratta di risvegliarsi alla bellezza della semplicità e trovare pace tra le tensioni della vita. Tuttavia, la nostra mente tende a soffermarsi sui rimpianti del passato o sulle preoccupazioni per il futuro, oscurando la gioia di vivere. Vivere al di fuori del presente ha impatti psicologici di vasta portata, inclusi ansia e stress, portando a una disconnessione dalla vita. Esploreremo i regni della mindfulness e come vivere nel presente, rivelando strategie semplici ma profonde per ancorarci a lì qui e ora. Partendo dalla comprensione dei legami psicologici che ci vincolano a un tempo non posseduto, a passi concreti per una mentalità focalizzata sul presente, questo video illumina la via verso il benessere mentale e il sollievo dallo stress, preparando il palcoscenico per un viaggio di vita pienamente presente ed esplorazione dell'essenza, della storia e delle basi psicologiche della mindfulness. Nel vortice della nostra esistenza, trovare la pace può sembrare una ricerca elusiva. Eppure, la mindfulness offre una promessa, un percorso semplice ma profondo verso la tranquillità e una vita gratificante. Impegnandoci pienamente nel momento attuale e osservando i nostri pensieri e l'ambiente circostante senza giudizio, raggiungiamo l'essenza della mindfulness. Ci avviciniamo all'essenza della mindfulness. Questo segmento esplora la sua importanza storica e le fondamenta psicologiche. La mindfulness ha radici antiche, riflettendo la lunga ricerca dell'umanità della pace interiore. Validata dalla psicologia, interrompe i nostri schemi di pensiero abituali, offrendo sollievo dallo stress e dall'ansia della vita contemporanea. Coltivando la consapevolezza del presente, forgiamo una connessione più profonda con noi stessi e il nostro ambiente. Successivamente, scopriremo come integrare questa saggezza senza tempo nella vita di tutti i giorni, usandola come strumento per la gestione dello stress, miglioramento della salute mentale e abbracciando il presente. Incorporare la mindfulness nella nostra vita quotidiana può inizialmente sembrare scoraggiante tra il suo rumore e caos. Tuttavia, può diventare una parte senza sforzo della tua routine con approcci pratici. Immagina di iniziare la tua giornata radicato nel momento, sentendo il calore dell'alba, inalando l'aroma del tuo caffè. Questo incarna la mindfulness, uno sforzo deliberato di vivere ora. Per integrare la mindfulness senza problemi nella tua vita, inizia con piccoli passi. Dedica alcuni minuti al giorno alla meditazione mindfulness. Concentrandoti sul tuo respiro e abbracciando il presente senza giudizio. Nonostante possibili distrazioni o pensieri vaganti, l'obiettivo è la pratica, non la perfezione. Man mano che questa pratica diventa un'abitudine, noterai i suoi benefici psicologici, riduzione dello stress, miglioramento della consapevolezza e benessere potenziato. Approfondiremo come la mindfulness trasforma non solo i momenti di meditazione, ma l'intera esperienza di vita, dimostrando il suo potere oltre il giardino della tranquillità. Il viaggio della mindfulness porta benefici notevoli, dalla riduzione dello stress alla migliorata chiarezza mentale, influenzando tutti gli ambiti della vita. Immagina di muoverti nella tua giornata con una pace incrollabile, non appesantito dalle preoccupazioni del passato o del futuro. Questa è l'essenza del vivere nel presente, raggiungibile attraverso la pratica della mindfulness. Innumerevoli storie di trasformazione personale evidenziano come la mindfulness abbia permesso agli individui di gestire lo stress e trovare equilibrio emotivo, trascendendo il semplice far fronte per prosperare. Le loro esperienze, ricche di chiarezza mentale e calma, ci guidano, mostrando i benefici tangibili della mindfulness. Ascoltando queste testimonianze, ci rendiamo conto che il viaggio verso una mentalità focalizzata sul presente non è ipotetico ma raggiungibile, con strategie pronte all'adozione. Continuiamo, entrando direttamente in queste pratiche, passando dalla comprensione all'azione. Mentre la nostra esplorazione volge al termine, riconosciamo che vivere veramente significa abbracciare il presente, dove si dispiega la bellezza della vita. La mindfulness non è solo un concetto ma una pratica fondamentale, guida essenziale per navigare attraverso le tempeste della vita, arricchendo il nostro benessere spirituale, emotivo e mentale. Vi invitiamo a partecipare attivamente a questo viaggio. Inizia ora, utilizzando le pratiche di mindfulness per illuminare il tuo cammino, passo dopo passo, respiro dopo respiro. Per coloro che sono ansiosi di approfondire, risorse da libri a comunità online attendono, ognuna facilitando la tua padronanza nel vivere il momento. Mentre concludiamo, ricorda, la ricerca di una vita centrata sul presente inizia con un singolo passo. Ti incoraggiamo a fare quel passo oggi, abbraccia il presente e scopri la pace e la chiarezza che la consapevolezza offre. Lascia che il presente ti guidi verso un'esistenza più ricca e appagante.